A riposto lo strappo PD megafono continuo a tenere banco. I prossimi giorni saranno decisivi. Dopo la riunione di venerdì scorso con il segretario provinciale del Partito Democratico Enzo Napoli, i democratici ripostesi sperano che Napoli e il provinciale, alle parole, facciano seguire i fatti. Cioè che venga dato al caso riposto quella dimensione sovracomunale in grado di far sollevare un polverone. Intanto però giovedì sera si attende un dibattito politico molto duro per la presentazione della giunta in consiglio comunale. Nonostante però un clima decisamente avvelenato tra le due coalizioni in campo, maggioranza e opposizione, forti entrambi della loro parità assoluta nei numeri consigliari, come noto 10 a 10, si sono già divise equamente le presidenze delle quattro commissioni consigliari. La prima e la quarta dovrebbero andare all'opposizione, mentre la seconda e la terza toccheranno alla maggioranza che sostiene il sindaco Enzo Caragliano.